Donato Di Matteo è una giornata anche di festa, lei oggi ha accolto in regione una ampia delegazione di questa associazione folcloristica di Abruzzesi in Argentina. È stata una giornata toccante, ascoltare tutti questi Abruzzesi dell'Argentina che hanno costituito questo bellissimo coro che è collegato all'Associazione degli Abruzzesi di Rosario, è una cosa veramente bella, toccante. Sono certo che rappresenta un altro punto di forza del nostro Abruzzo distribuito nel mondo. Questo grande mondo degli Abruzzesi è una grande potenzialità per la nostra regione. Spero che si coltivi fino in fondo le potenzialità che puoi esprimere. Ieri è cominciata la vera gira abruzzesa, siamo stati al mio paese, a San Valentino, accolti dal coro dove ci stanno i miei parenti, e la mia cugina Tiziana Mastro di Casa. Stasera facciamo parte della settembrata che guida Gabriella Serafini, a chi voglio ringraziare. Sarà una giornata magnifica. E poi, se non sbaglio, a Casalbordino, a Fossaccesia, a Lanciano, a Lama dei Peligni, saremo ospite di Camminando Insieme a Chietti. E resteranno tre giorni di lavoro importantissimo, dal 10 al 13, con la compagnia teatina per le tradizioni abruzzese, guidata dal professore Stoppa. Lì ci metteremo all'entroterra abruzzese a fare mietitura, a fare cucina, a fare canti, a fare tessuti, a imparare le vere tradizioni. Poi ci sarà anche l'unione del Cram, peraltro proprio a Rosario nei prossimi mesi. Abbiamo pensato quest'anno di riportarlo lì in Argentina, sarà un'iniziativa veramente interessante. Abbiamo visto che spenderemo di meno di quello che si spenderebbe se si facesse qui in Italia, per cui questa volta, dopo tre iniziative fatte in Abruzzo, abbiamo deciso di rifare un'iniziativa lì, in Argentina e a Rosario. Grazie. 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 Grazie.